Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube, oggi con questo copricapo esotico vi auguro subito buona vigilia di Natale, mi raccomando non mangiate troppo, non è vero raga, mangiate come i maiali, tanto per ritornare in forma c'è sempre tempo, però intanto mentre attendiamo il cenone di stasera vi porto un video su un argomento che secondo me è molto sottovalutato in quella che è l'analisi dei vari giocatori, ossia il body type. Che cos'è il body type? Il body type è essenzialmente proprio la corporatura di un giocatore e per me è una sorta di statistica nascosta che è decisiva nell'andare appunto a compiere analisi e confronti tra i giocatori, quindi senza perderci troppo in chiacchiere, devi passare sulla schermata in maniera tale che capiamo meglio il discorso con degli esempi pratici. Se andate infatti su Footbin trovate nel player database questa riga, ok? Dove ci sono le varie versioni, posizioni, nazionalità, lega, campionato, bla bla bla. Quello che a noi interessa è questa sezione MISC dove appunto troviamo il body type, ok? E qui ci sono tutti i differenti body type che i giocatori possono assumere in game. Abbiamo dei body type unici, ovvero dei giocatori che non hanno giocatori uguali in tal senso. Abbiamo l'in, ovvero dei giocatori snelli, alla Pirlo o alla Sané ci dice. Average, quindi se vogliamo dire un po' tra cagnotti come Vela e Hazard e Stoky come Aguero o Depay, quindi un po' più paffuti, nel senso hanno una corporatura bassa e piazzata sotto questo punto di vista. Abbiamo poi quelli High e Average, quindi Sic e Long, Alti e Snelli, High e Average Plus, quindi quelli alti ma con una corporatura un po' più robusta. Gli High e Stoky, quelli alti e chiatti del tipo alla Campbell, Short e Lean, Sic e Cort, Secchi e Corti alla Sterling, Short e Lean meno, ancora più Sic e Corti, quindi alla Iniesta o alla Mertens. Abbiamo poi i Corti bilanciati, Alti e Secchi alla Talisca e poi abbiamo tutti quelli che sono i vari tipi di body type unici che vengono presentati come anteprima, anche se ce ne sono veramente tanti. Ad esempio andiamo a vedere qui body type unici, vediamo che c'è Pelé, c'è Maradona, c'è Ronaldo il Fenomeno Prime e Ronaldo il Fenomeno Mid, che sono due giocatori differenti. Così come Maradona, così come Messi, così come Gullit, Baggio, eccetera eccetera eccetera, Cristiano Ronaldo. Perché io reputo che questo parametro è fondamentale nell'andare ad analizzare dei giocatori? Andiamo a fare subito degli esempi molto pratici. Poniamo il caso di andare a guardare il buon Raffaele Varane, difensore che insomma conosciamo tutti, devastante sotto tutti gli aspetti, sia la velocità sia le statistiche difensive. È alto un metro e 91 e ha un body type unico. Questo vuol dire che non esiste nessun altro giocatore in game con le sembianze di Varane, per cui tutte quelle domande del tipo Riberoschi io non mi trovo con Varane. Però mi piace avere giocatori come lui, chi posso andare a prendere? La risposta è nessuno. Perché il body type di Varane ce l'ha solo Varane. Ed il body type di Varane è fatto appositamente per far sì che lui effettivamente sia comunque un difensore, nonostante sia alto un metro e 91, veloce. Sia un difensore che effettivamente riesce a tradurre in realtà quelle che sono le sue statistiche difensive. È un giocatore che nonostante sia un metro e 91 riesce ad avere reattività addirittura di 86, 62 di agilità, riesce ad avere 86 di forza. Quindi sono tutti parametri che riescono poi effettivamente a tradursi in game proprio grazie a quella che è la conformazione fisica del giocatore. Poniamo il caso di un altro difensore alla Varane, anche se è incorretto come vi ho detto dire alla Varane, visto che si tratta di un giocatore unico. Ossia il buon Manolas, ok? Manolas sappiamo che, vedete, ha lo stesso parametro di velocità, magari ha un po' più di accelerazione ma un po' meno di velocità scatto. Comunque il parametro di velocità è quello. E parliamo di un giocatore che comunque è di 1,89 m. Quindi bene o male ci passano 2 cm, siamo lì. Il body type di Varane però è Aig ed Average, ossia alto... E non snellissimo, ok? E voi lo vedete proprio che in game Manolas ha proprio un'altra presenza e sembra quasi essere appesantito dal suo corpo. Per cui, pad alla mano, non sarà mai rapido come un Varane, non sarà mai reattivo come un Varane, nonostante abbia più o meno un parametro accettabile che è 81. Le statistiche difensive, certo, le sentiamo perché comunque su quello non ci piove. Anche per quanto riguarda la forza, sì, con un giocatore di 1,89 m, quell'81 con questo body type, è come se non riuscisse a trovare effettivo potenziale in quel numerino, ok? Mentre magari l'aggressività riesce comunque a stare attaccata a un giocatore, ma quella sua pesantezza rischia di fargli perdere magari un pelo per quanto riguarda... per quanto riguarda, che so, il primo controllo dell'attaccante, per dirvene una. Quindi la discriminante del body type non va assolutamente sottovalutata, ma non solo per difensori ovviamente, per questo tutti i ruoli, ok? Io ad esempio vi ho portato altri giocatori che possiamo andare a confrontare. Abbiamo ad esempio il buon Renato Sanchez, il quale ha un body type, vediamo, average. Quindi diciamo, chiamiamo robusto, dai. Abbiamo un body type average, per cui non è un body type unico, è un body type che è riproducibile. Quindi qualora la risposta, la domanda sia, non mi piace Renato, chi ci posso andare a mettere al suo posto? Si può tranquillamente andare a sostituire con un giocatore che abbia la stessa caratteristica. Io qui ad esempio avevo selezionato Alland, per dire, però mi pare che anche il buon Valverde ha un body type average. No, lui ce l'ha all'in. Ok, comunque diciamo che, quindi, i giocatori che non hanno un body type unico sono quelli che sono più sostituibili con dei giocatori similari. Se non vi piace Renato Sanchez, le alternative ci sono. Ad esempio, io avevo preso un Alland qui, giusto per similità di body type, ma basta andare qui, body type average, andare a selezionare, che so, ruolo centrocampista, ed ecco qua che vi escono tutti i centrocampisti con body type average. Abbiamo Mataos 91, tra le icone che spicca, abbiamo, vabbè, Toni Kroos che è bello che è inutilizzabile, abbiamo Mark Inos che ha anche un body type average, abbiamo, che so, altre carte utilizzabili, Paolinho che ha un body type average. Quindi, su questi sono quei giocatori che hanno molta più scelta. Un esempio molto lampante, in tal senso, lo possiamo fare anche col buon Maxi Man. Maxi Man c'ha 95 di velocità, ok? Questo, in teoria, dovrebbe essere una saetta, dovrebbe essere agilissimo, scattante, eccetera, eccetera, ma in realtà non è così, perché anche lui ha un body type average, quindi, piuttosto, rispetto ad un Sadio Mané, ok? Che sulla carta appare, nella sua versione base, un pelo più lento, risulterà essere molto più scattante rispetto a quel Maxi Man, perché ha un body type unico. Quindi Mané ha una struttura corporea fatta apposta per far sì che possa andare a rendere, in realtà, quelle che sono le sue statistiche, ok? Altro esempio lampantissimo è nel caso, ad esempio, di Bayheader, ok? Giocatore che conosciamo tutti e che ha un body type unico, Bayheader che ha 91 di agilità, ok? Io ho preso un altro giocatore, con un parametro di agilità addirittura più alto, il buon Lautaro Martinez, il quale ha 94 di agilità, ragazzi. Io vi sfido a provare a muovervi con la levetta analogica sul posto, senza fare altro, con Lautaro e Bayheader, e venirmi a dire nei commenti chi è stato più agile. E mi dovete dire se è stato Lautaro e Bayheader, senza che io vi dico altro. L'unica differenza tra queste due carte non la fa il numerino, ma la fa body type, che in questo caso è average, e in quest'altro caso è body type unico, ok? Per cui tutti quei ragionamenti che voi mi fate, spesso e volentieri, nei commenti, live, eccetera, mi chiedete, oppure non mi piace Rashford, ci posso mettere Maxi Man, la risposta per me è no, perché Rashford fa parte di quegli altri che ha un body type unico, ok? Quindi lo sentite molto di più, è costruito appositamente per rendere effettivamente per quello che è. Stessa cosa, pure se mi dite, ragazzi, Riberò, non c'ho i crediti per arrivare a Cristiano Ronaldo, chi posso prendere che è simile a lui? Ragazzi, non c'è nessuno che è simile a Ronaldo, potete prendere dei giocatori che fanno più o meno uno stile di gioco simile, ma Ronaldo sarà unico, perché ha un body type unico, quindi nonostante sia un Cristo di un metro e ottantasette, si gira, è agile, è reattivo, eccetera, eccetera. Qui addirittura il body type di Cristiano Ronaldo non è neanche unico, ma è body type Cristiano Ronaldo, cioè, è proprio lui, è basta, cioè, suo, costruito per lui, e questa cosa accade con Cristiano Ronaldo, con Neymar, e se non erro con qualche icon. Quindi anche qui con Neymar, quando mi dite non arrivo a Neymar, posso sostituirlo con Tizio, oppure quando esce una carta speciale che statisticamente sembra meglio di Neymar, in realtà è meglio di Neymar, la risposta per me è no. Quindi attenzione al body type, per me va tenuto molto sotto controllo quando andate a decidere se prendere un determinato giocatore o un altro, perché vi fa veramente la differenza, in my honest opinion. Quindi, nulla raga, spero di non essermi dilungato troppo, vi ringrazio per la visione di questo video, vi rinnovo una buona vigilia di Natale, mi raccomando di lasciare un like e un commento, se non l'avete fatto ancora iscrivetevi al canale che stiamo crescendo sempre più, per tutte le live giornaliere trovate le info in descrizione, è nulla ragazzi. Un salutone da Liberoschi, ciao ciao!